ciao a tutti ragazzi ben ritrovati in questa nuova numero 3 puntata del nikon master director io sono aldo ricci sono il giudice di questo social talent show in regia abbiamo mario e al tabellone abbiamo adriano e come sempre come accade ormai da già da tre puntate oggi andremo a guardarci cinque video e a fine puntata sapremo chi è il best di oggi io inizierei subito senza perdere tempo con il primo marco d'azzo quindi metto la mia bella cuffia regia andiamo ciao a tutti dai sento Oh, give me love, my mind, my mind Oh, give me love, my mind, my mind Oh, give me love, my mind, my mind Oh, give me love Potete chiedere a mia moglie se vi fidate, però questo emoziona, arriva, il messaggio arriva, è carino, easy nella tecnica montaggio, però è molto bello anche se la musica non è utilizzabile. Però abbiamo deciso che in questo momento non guardiamo la musica, arriva, il messaggio arriva, è bello il fatto che cantate, molto bello. Contenuto 7, storytelling secondo me è un 8 perché funziona veramente bene, tecnica di shooting 7, anche se le quadrature sono molto statiche, qualcosa a mano libera, ma sono veramente fatte bene, la color è uniforme. Sound design 7 perché si sentono gli effetti delle scene che guardiamo, ci siete poche cantate, non giudico la musica perché ovviamente solo la musica ti avrebbe fatto prendere 30, ma non è merito tuo. Quindi Marco, punteggio 29. E andiamo avanti, Giampiero Gratta, regia, andiamo. Oggi ho scritto un testo, un testo per una canzone, per la mia cara musica, sperando rimanga per sempre, sperando possa essere qualcosa, ad esempio una finestra dove poter guardare, o una porta dove poter passare, per raggiungere un'emozione, un'emozione che valga nel presente e nel futuro. Quel futuro che stiamo costruendo, di cui tanto abbiamo paura, quel futuro che si trova tra quelle corde. Oggi è dura, oggi è proprio dura. Bel video, Giampiero, bel video, veramente. Devo dire, mi emoziona di meno rispetto a quello precedente, ma so affatto male io, non lo so. Però mi emoziona di meno. Sicuramente qui hai studiato un po' di più le scene, le inquadrature, i movimenti. C'è qualcosa che non mi piace nella color, ogni tanto vedo un giallino nell'incarnato che non capisco a che cosa è dovuto. Probabilmente un posto non l'hai poi sistemato. Invece altre scene c'è un viola esagerato, magenta, che non riesco a capire. Comunque, contenuto, quindi l'idea è da sette. Storytelling, in realtà più di tanto non ho capito, cioè ci sono un mix di scene, ma non ho capito alcuni legami. Quindi ti do sei e tecnica di shooting, sette perché comunque il video è fatto bene. Belli movimenti, bello l'utilizzo delle ottiche, la scelta delle inquadrature e bello il passaggio che hai fatto alla fine sul piano, sfruttandoti il nero e la sfumatura che va a chiudere, molto bella. Questa è una bellissima tecnica in montaggio, bravo. E sound design, sound design in realtà, aspettate un attimo perché voglio capire se ho sentito male io. Qui c'è. Però Per esempio sulla bici non c'è sound design, è muta. Qui c'è poi quando lui batte, quando lavora. Senti, il sound design non è stato fatto su tutte le clip, o comunque se c'è è basso e non si sente. Però sì, sette. Ti do un set anche per il sound design. Quindi caro Giampiero, prendi un totale di... La nostra macchina va a solare. 27 punti. Grazie Giampiero. E andiamo avanti con Domenico John Travolta. Varone. Domenico John Varone. Mi metto la cuffia, preparo il video, regia quando vuoi. E andiamo avanti con Domenico John Travolta. Allora. E' sicuramente simpatico. Mi lascia un po' così. Innanzitutto non mi piace il fatto che tutto ciò che accade nel video è fuori fuoco. perché è a fuoco soltanto quando sei seduto. Io qui avrei sfruttato di più probabilmente l'autofocus in modo tale da avere tutto a fuoco. Perché è un peccato che dove avviene poi il cambio effettivamente è fuori fuoco. Però non ho capito il messaggio. Magari sono io che... Però non mi arriva ecco. Non mi arriva. E' simpatico da vedere. E probabilmente... Così come è luppabile. Questo sono le pubbliche su Instagram. Nel post va a loop di continuo perché è molto carino questa cosa che entri e esci. Questo è carino. Comunque, contenuto 5, storytelling 5. Tecnica di shooting per colpa della scelta del fuoco soltanto quando sei seduto ti do 5. E sound design non c'è praticamente niente. Quindi 5 anche per il sound design. Molto lineare, pulito, non c'è niente. Grazie Domenico. E andiamo con il totale per Domenico che è di 20 punti. E con il quarto video che è di Antonio Avitabile. Quindi lo prepariamo. Ti ho in cuffia. E ce lo guardiamo. La finestra sul mondo. Il mio mondo. Una cornice che racchiude ciò che vorrei essere. Un confine legato ai limiti di un frame. Puoi decidere di restarci dentro. O di uscire fuori e raccontare chi sei. E non importa il tempo. Passato, presente o futuro. La voglia di raccontare non cesserà mai di esistere. La velocità, i colori, la vita frenetica che mi aspetta. Per il mio domani sarò pronto a raccontare ciò che il mondo ha da dire. Anche se fosse solo da una finestra. Ok. Mi è sembrato più corto o è stata una mia impressione? Mi è sembrato più corto del normale. Quanto dura? 39, infatti. Allora. Ci sono un po' di errorini sia sul mix audio, sul sun design, sulle clip. Tipo quando ti affaccio la finestra. Non è bellissimo questo cambio fuoco così duro, veloce, rapido. Lì l'avevi fatto un po' più morbido. La voce andava pulita. Insomma ci sono un po' di errorini qua e là che non mi permettono di darti dei voti alti. Quindi sicuramente il contenuto, quindi l'idea, è 5. Sullo storytelling posso darti un 6 perché tutto sommato c'è una storia che ha un inizio e una fine ed è raccontata bene. Sulla tecnica di shooting, meno, perché non mi fa impazzire, ci sono un sacco di riprese, mosse. Insomma, potevi scegliere sicuramente clip migliori perché non credo che tu le hai girate tutte ex novo. Quindi probabilmente clip sicuramente. E soprattutto quando sei su Premiere, che crei il progetto, tu crei il progetto senza titolo. che è gravissimo, che è proprio gravissimo. Per questo dovrei proprio bloccarti, ma non lo farò. Però sì, insomma, sulla tecnica di shooting ti do 5. Sul sound design ti do 5. Quindi anche sul sound design ti do 5. Potevi lavorare sicuramente di più. Grazie Antonio. E andiamo con il totale per Antonio, che è di 21 punti. Mentre, mentre, andiamo con l'ultimo video di oggi, che è Modu. Io non so se sbaglierò sicuro, mi dispiace. Il cognome non lo dico, così non faccio figuracce. E soprattutto non lo dico in maniera brutta. E tu poi mi dovrai picchiare e bloccare su tutti i social. Quindi ci guardiamo il video di Modu. Spero sia così corretto. Scusa se l'ho detto male. Vai regia. Scusa se l'ho detto male. Torneremo più forti. Volevi vincere facile. In realtà, hai avuto una bella idea, ma ti è mancato quel guizzo per realizzarla con uno storytelling un po' più forte. Perché il contenuto, secondo me, c'è. L'idea c'è. Innanzitutto, qui la cosa che prevale è l'audio, è la musica. Per il resto è completamente muto. Che può essere una scelta. Attenzione, non è detto che ci debba essere per forza un sound design. Potrebbe essere una scelta. Però è un peccato, in questo caso, non sentire i bambini. Perché sono, in questo video, parte fondamentale di quello che guardiamo. E invece, in questo caso, quello che ricorderò sarà più la musica rispetto alle immagini. E questo è sbagliato. Ricordatevi sempre che devono prevalere le vostre immagini e non la musica di qualcun altro. Questo è importante. Per il resto, ci sta. Non vedo una scrittura dietro. Cioè, vedo semplicemente delle riprese che hai fatto a queste bambine che correvano. Molto belle, tra l'altro. Non sono brutte le riprese. Sicuramente da migliorare, ma non sono brutte. Però mi manca quella storia. Quello storytelling è un po' mancato. Quindi, come contenuto, ti do 6. Nello storytelling ti do 5. Nella tecnica di shooting, anche se hai fatto delle riprese, credo, con gimbal, hai sfruttato bene le ottiche. Però vedo dei cambi di luce molto forti. Sole, ombra. E non l'hai gestita bene. Questo solo che non ho capito se è uno solo vero oppure è uno solo fatto in post. Alcune inquadrature non hanno tanto senso. Insomma. Sicuramente l'attrezzatura sai gestirla, sai utilizzarla, ma sicuramente si poteva ottenere di più. Come sound design, non c'è assolutamente nessun sound design. E anche la voce che sentiamo alla fine, tra l'altro, è fuori fuoco. Come è fuori fuoco? A tecnica di shooting, non te l'ho dato, scusa, il voto. Tecnica di shooting 5. E 5 anche al sound design. Perché? Perché, innanzitutto, l'audio finale c'è molto fruscio. E tra l'altro, tornando alla tecnica di shooting, è fuori fuoco la ripresa, quella stretta, sugli occhi e la mascherina. Lì, io devo avere a fuoco gli occhi perfettamente. E come peccato questa scena finale, dove l'audio è un po' così. Però qui l'ha fatta padrone effettivamente la musica, ed è un peccato. Comunque bravo. Devo essere onesto. Questo è uno di quei video che avrei visto volentieri, anche scorrendo in bacheca sui social. Faccio sempre questo paragone, ma è giusto che sia così. Comunque hai un totale di 21 punti. Grazie. Allora, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Quindi prego la regia di mostrare la schermata che è il nostro riassunto. E abbiamo Marco Dazzo con 29 punti, Giampiero con 27, Domenico con 20, Antonio 21 e Mudu 21. Quindi il vincitore di questa puntata è Marco Dazzo. Bravo Marco. E anche in questa puntata i primi due sono molto vicini e poi sono anche molto vicini gli altri tre. Bravi tutti, sono contento perché comunque, devo essere sincero, il livello è veramente buono. Non pensavo, il livello è veramente buono. Questo mi fa piacere, ecco. Significa che il nostro mondo non è più un mondo chiuso come era prima. Adesso siamo diventando tanti quelli che riescono a creare dei contenuti di valore. non solo come qualità, ma come contenuto. Io vi ringrazio e mi scordo sempre che c'è questa transizione dalla regia, mi scordo sempre. Vi ringrazio e anche per questa puntata numero tre finisce qua. Grazie Mario, grazie Adriano, grazie Nikon, grazie a voi, grazie a voi. E ci vediamo alla puntata numero quattro. Ciao. Grazie a tutti.